In consiglio regionale illustrata la seconda variazione di bilancio di previsione 2022-2024, una manovra finanziaria della regione toscana necessaria anche a far fronte al disavanzo in sanità dovuta all'emergenza pandemica. Varazione che chiude i conti, afferma Gianni, pur avvertendo preoccupazioni riguardo ai finanziamenti delle opere pubbliche. L'aumento esponenziale del costo delle materie prime potrebbe incidere pesantemente sui progetti di lavori partiti prima del conflitto in Ucraina. Il governo così sta già ragionando su una varazione di risorse. Dove possiamo o dobbiamo velocizzare perché probabilmente ci sarà da riorganizzare gli oneri sui progetti già presentati. Iniziativa che ci porta con la variazione di bilancio a chiudere in pareggio il bilancio della sanità 2021, avendo avuto la capacità di individuare singoli capitoli, particolari manovre, risorse, che ci consentono di colmare complessivamente, alla fine in un anno e mezzo, 400 milioni, quello che era la preoccupazione di vedere una sanità destinata al commissariamento. Per la Giunta è un grande successo e sotto questo aspetto è importante averlo raggiunto senza dover aumentare le tasse, le imposte, ma invece contenendo quello che è la capacità di spesa attraverso le risorse del bilancio ordinario della Regione. Naturalmente è una variazione di bilancio più complessiva, strategica, che dà una risposta a quello che è la necessità di Piombino e conseguentemente la falda, che con interventi di modifica porta a 9 milioni e 300 mila euro su quella che è un'esigenza ambientale di quel territorio per far fronte alle dovute bonifiche. È un intervento che porta sulla fortezza vecchia di Livorno 3 milioni, in modo da consentire una sua ristrutturazione, una sua utilizzazione per finalità turistiche, culturali, fieristiche, in modo da farla diventare un polmone di una Livorno che si rigenera attraverso l'uso dell'antica fortezza medicia. È una manovra che ci porta a collegare con la strada Sant'Anna di Stazzema a Stazzema. Oggi occorreva fare 15 chilometri per scendere giù nella valle e risalire a Stazzema dal presidio della cultura della memoria al capoluogo. Invece sono 2 chilometri e 2 milioni e 100 di questa strada ci portano. È una manovra che porta a valorizzare la Toscana diffusa e non solo i grandi centri, prezzo ai 6 milioni destinati a Gragnola per l'intervento stradale atteso da chissà quanti anni. È una manovra che va a far fronte a tutta una serie di interventi dovuti al terremoto e si va a toccare anche quello che è il patrimonio di impianti sportivi con interventi complessivi che toccheranno una trentina di nuovi impianti secondo la graduatoria presentati dai comuni. Ma resta in tutto questo la finalità di far quadrare i conti della sanità che vengono a essere appunto toccati e devo dire che anche l'opposizione ne ha dato atto. Ci sono tanti interventi di spesa in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritario, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema aviario toscano. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la regione toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro. A queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva, anche se margini di incertezza ci sono ancora, di far sì che la regione toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. Quindi una misura importante, quella che è stata licenziata dal Consiglio regionale che per la seconda volta dall'inizio di quest'anno va ad arricchire il territorio toscano di una serie di interventi che sono il frutto di necessità di spesa, soprattutto di investimento che non erano preventivabili al momento in cui si è adottato il bilancio nel dicembre del 2021. L'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito del servizio sanitario regionale. Un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro, anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la regione si aspettava, sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Per il resto una manovra di bilancio che ricalca ormai una forma, un modus operandi che è noto. Interventi legati a singole esigenze dei territori, una mancanza sostanzialmente di organicità e di interventi di tipo strutturale. Noi naturalmente il principio per cui gli enti locali vanno sostenuti ci mancherebbe, lo condividiamo. E' chiaro che però gli enti locali vanno sostenuti a tutto sondo e quindi l'intervento singolo in base a chi bussa prima alla porta, ecco questo per noi è inaccettabile. Quindi auspichiamo davvero che questo modo di gestire le variazioni di bilancio e i lavori del Consiglio cambi da parte della Giunta, perché altrimenti in una congiuntura internazionale già molto difficile, dove tante aziende e tanti lavoratori ancora sono in una condizione di forte disagio, ecco la politica forse deve fare sicuramente uno sforzo in più. Porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati cinque mesi anche di trattativa politica, la nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse, tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. La sanità un'altra volta è un'emergenza finanziaria e non soltanto, e dare la colpa al Covid è sicuramente una buona scusa, ma non serve a trovare la soluzione rispetto alle criticità del sistema, così per come è strutturato. La regione toscana pensa di risolvere i problemi economici del comparto sanitario tagliando sui diritti e sugli stipendi dei lavoratori. Noi pensiamo che sia una scelta sbagliata, pensiamo che si debba intervenire dove ci sono quelle baronie che stanno soffocando la sanità, che hanno creato dei centri di potere che sono finalizzati a conservare se stessi, e dai quali si vedono il raddoppiarsi, a volte il triplicarsi, dei primariati, che servono non a dare un servizio migliore, ma a contantare magari un medico amico in più, che servono al raddoppio dei centri di eccellenza, che servono non a avere una sanità più eccellente, ma a dare appunto una risposta a qualcuno che di quella risposta ha bisogno. In regione toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento di economia e finanza che manca della nota di aggiornamento, come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro, questo modo di fare del governatore non ci piace, così la Toscana non può essere portata avanti. L'opposizione sarà sempre più dura, perché se non veniamo ascoltati noi alzeremo ancora di più la nostra voce. Su iniziativa della Commissione per la valorizzazione dell'area interna, l'Aula approva una proposta di risoluzione per lo sviluppo dell'area insulare della Toscana ed in particolare dell'Alcipellago, quindi Elba Giglio, Capraia, Monte Cristo, Giannutri e Gorgona. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti ma anche per i medici, che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole, perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. E poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei e infine il discorso ambientale che forse è il più importante di tutti perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante. C'è il discorso dei rifiuti, c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua e poi in generale anche, devo dire, il discorso degli ungulati. Quindi i problemi sono tantissimi. Noi come Commissione abbiamo dato delle linee guida alla Giunta e speriamo si possa veramente arrivare a cose concrete. In Commissione Aree Interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che li risiedono però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là del flusso della stagionalità turistica. Il Governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale Aree Interne e questa è sicuramente una buona notizia perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità, in particolare c'è il tema dell'emergenza-urgenza ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il Governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto sul mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale e chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. PNRR, fondi strutturali, il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in Regione di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori. Noi pensiamo che oltre alla stagionalità, oltre al turismo questi territori debbano essere presidiati e abbiano molto da dare oltre a questo settore e in questo modo li vogliamo vivere. La nostra risoluzione dà un contributo e dà indirizzi alla Giunta precisi in questa direzione per i prossimi anni. Una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali. Premesso che l'arcipelago toscano è a nostro giudizio l'arcipelago più bello del Mediterraneo ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona. Dopo aver letto il parere sul glifosato della European Chemical Agency si ribadisce come il Consiglio regionale della Toscana si sia già espresso in passato con una mozione che chiedeva la sostituzione di quest'erbicida e di altri diserbanti nocivi. La nostra decisione è stata molto chiara e quella che è la nostra volontà come Regione Toscana è quella di continuare su una sostenibilità e su una cura del nostro territorio che parta sia dall'agricoltura e dai prodotti sani ma prima di tutto dal tutelare l'uomo. Quindi noi rimaniamo fermi su quello che abbiamo espresso in passato e su cui vorremmo continuare anche perché non è certo, ci sono delle indiscrezioni e non abbiamo ancora la certezza che non sia dannoso per l'uomo e quindi è bene essere molto prudenti. Una prima considerazione ci fa vedere che si tratta di una sostanza che è stata dichiarata lesiva per gli occhi e tossica per la lunga durata per gli organismi acquatici e tuttora nessuno ha smentito questo passaggio. Un lente di ricerca europeo contro il cancro ha dichiarato che molto probabilmente questa sostanza è cancerogena, adesso arriva un parere che differisce in qualche modo. Io credo che sia necessario a questo punto un approfondimento fatto da un organismo terzo con criteri certi che aiutino a stabilire la reale portata dei danni che provoca il glifosate che in ogni caso esistono al netto del fatto che sia cancerogeno o meno. Ricordo che la regione toscana ha investito e sta investendo ancora moltissimo nell'agricoltura biologica nella tutela dell'ambiente e che in un'ottica che è quella che ci sta richiedendo anche l'Unione Europea cioè di transizione ecologica, sostenibilità ambientale e possibilmente utilizzo il minore possibile di pesticidi, fitosanitari e quant'altro in un'ottica di un ambiente più salutare. L'idea di continuare a utilizzare il glifosato nel 2022 è in ogni caso contrario a tutti i principi che in questo momento stanno guidando le politiche nazionali, internazionali e anche quelle della regione toscana. Grazie!